Then I'll have to get serious Chi ha il potere decide le leggi da solo E' un'epoca in cui i potenti possono fare quello che vogliono E io sono fra questi, mi dispiace per voi Shin rappresenta il potere in percorso Chi ha il quanto è la 6 Come on, go Chi ha il quanto è la prima età Chi ha la prima età Chi ha il quanto è la prima età Sei davvero un direttante rispetto al mio caraceto! Rendi questo! Rendi questo! Rendi questo! Rendi questo! È davvero un direttante rispetto al mio caraceto! È inutile si confida ai tuoi muscoli! Il Nanto Kent può distruggere con i suoi poteri qualsiasi sostanza che si trovi nel corpo! Rendi questo! Rendi questo! Rendi questo! Rendi questo! Rendi questo! Rendi questo! Sarai un gioco! Rendi questo! Rendi questo! È davvero un direttante rispetto al mio caraceto! È inutile si confida ai tuoi muscoli! Il Nanto Kent può distruggere con i suoi poteri qualsiasi sostanza che si trovi nel corpo! Rendi questo! Rendi questo! Rendi questo! Non è un gioco. Quale tipo di fattura? Non è un gioco. Quale tipo di fattura? Quale è la tua? Bego! Come on, go on. Quale tipo di fattura? Prendi questo! Prendi questo! Prendi questo! Quale tipo di fattura? Prendi questo! Prendi questo! Prendi questo! Prendi questo! Prendi questo! Come on, go on. Prendi questo! Prendi questo! Prendi questo! Come on, go on! Prendi questo! E' inutile se non ti aiuta i tuoi muscoli, il nanto tempo di truggere con i tuoi poteri qualsiasi sostanzio che si trovi nel corpo. Prendi questo! E' inutile se non ti aiuta i tuoi muscoli, il nanto tempo di truggere con i tuoi poteri qualsiasi sostanzio che si trovi nel corpo. E' inutile se non ti aiuta i tuoi muscoli, il nanto tempo di truggere con i tuoi poteri qualsiasi sostanzio che si trovi nel corpo. Inutile se non ti aiuta i tuoi muscoli. E invece immagino esattamente non ti aiuta. Prendi questo! Questa era un gioco! Questa era un gioco! Questa era un gioco! Si vive una volta sola nella vita.